Il cibo di strada Il cibo che si mangi in piedi è un'espressione tipicamente dialettale, cioè il cibo di strada è un mangiare in dialetto. Tu mangi chimano e in dialetto comunichi con la mezza parola, con lo sguardo, l'approvazione o meno di quello che si sta a mangiare. Il cibo di strada Stavo pensando una cosa, oggi vado a mangiare le mie l'ordine, mi dovrebbe diveri anche voi. Il cibo di strada Il cibo di strada Il cibo di strada Perfetto, ci vediamo dopo. Ragazzi, ma voi avete mai pensato se è un piatto di questo tipico siciliano? Lo potremmo portare appunto in un ristorante? Magari per fare un'anglet che vuoi? Sarebbe un'ottima idea, sì. Non è anche, sì. Il nostro Business Line. Dei lasciare proprio a una organizzatica. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so. Ma se ne so, non so. È veramente un'ottima idea. Non so, non so. Non so. Non so. il vostro hogare me da benissimo questo è successo